E' bello Sì Scriviti Marchisio rinnovato da Meb Rapun I miei Bacchetto Meb Questo è un po' come a Ponte Chianale Perché pali Marchisio E... Tra i miei Meb Anche se... No, anche i rulli No, i rulli sembrano sacci No, Meb, Meb What the hell? hai notato Edo che il tuo trainomeb ha il beccuccio della Marchisio ha riciclato un anellino dei Marchisio e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.